Il 25 settembre dovrai scegliere tra due visioni d'Italia molto diverse. Tra l'Italia che dice sempre no ai diritti e noi che ai diritti diciamo da sempre sì. Sì all'eutanasia legale, sì alla cannabis legale, sì al matrimonio egualitario e alle adozioni per le coppie omosessuali, sì alla cittadinanza per chi cresce e studia in Italia. Puoi dire quattro volte sì e far vincere l'Italia che libera i diritti. Vota più Europa! Vota più Europa!